Musica Un cordiale saluto a tutti voi, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV Sul canale 17 sta per cominciare la rassegna stampa Occhio ai giornali alle 7.30 puntuali al mattino Buongiorno anche a chi ci segue naturalmente in replica alle 9.10 alle 13.30 Cominciamo dal santo del giorno, oggi è la chiesa tra i santi che ovviamente ricorda oggi come San Simeone Oggi ci ricorda che è il mercoledì delle ceneri, quindi finito il periodo di carnevale Comincia la quaresima, il sole sorge alle 7.02 e tramonta alle 17.42 Fa un po' freddino questa mattina rispetto a ieri, ieri 10 gradi Oggi invece ne abbiamo 3.9, quindi 4 gradi alle 7.30 del mattino Ma c'è poco da dire sul tempo perché oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso Temperature in diminuzione, per domani invece lo stesso Cielo sereno praticamente su tutta la regione E venerdì, venerdì 20 febbraio Temperature in aumento nei valori massimi C'è poco da dire, nel senso che ci sarà il sole Probabile invece un peggioramento nel corso del fine settimana E dopo un miglioramento, probabile transito di una seconda perturbazione Nella parte centrale della prossima settimana Staremo a vedere Intanto vi raccontiamo del carnevale Il carnevale ieri c'è stato il rogo del pupo Pupo che dunque chiude con il rogo tutte le attività, le manifestazioni del carnevale Brivido caldo col pupo che brucia Brusca ventata fa allertare i pompieri In effetti ieri per un attimo si è temuto un pochettino Niente di che, ma soprattutto faceva scena quel fumo nero denso Che a un certo punto ha cominciato a oscurare Anche se già eravamo nella penombra Ma insomma, all'imbrunire Ma ha cominciato a oscurare la parte Gran parte della piazza Poi con questa folata di vento Con questo vento, insomma Ecco, e c'è questo racconto Insomma, di come si è concluso il carnevale ieri in piazza 20 settembre Poi a centropagine invece il lamento del carrista Questo carnevale è sterile Con pochi mezzi facciamo miracoli Ma manca una regia che sfrutti meglio le risorse Interviene Alfredo Pacassoni Che dice non è tutto oro quello che luccica Secondo Pacassoni In quanto i carristi continuano ad essere ma retribuiti I carri nuovi sono pochi Le sue proposte sono coinvolgere le scuole Aprire un mercato delle maschere Promuovere eventi prestigiosi Poi sull'idea di far pagare o meno l'ingresso alla manifestazione Pacassoni dice Può essere una opportunità da verificare Poi sulla pagina di Fano del resto del Carlino Si parla del caso Zuccherificio Arriva il primo no scontato Ma spunta anche il problema della strada È stato sollevato in commissione urbanistica Il problema della proprietà della strada Che dalla statale sale verso lo Zuccherificio Per poi riscendere verso la statale 16 Sembra infatti che l'ultimo tratto della strada Sia di proprietà di Madonna Ponte Che in teoria Ma in teoria Potrebbe anche chiuderlo al traffico Da un momento all'altro Animi caldi Dei negozianti invece Sempre sulla pagina di Fano del Carlino L'incontro con il sindaco Animi caldi e negozianti No alla piazza pigliatutto Protesta degli esercenti Che hanno le loro attività in periferia E dicono e si lamentano Soprattutto del fatto che tutte le iniziative Sono organizzate in piazza 20 settembre E chiedono quindi che Insomma venga tenuto conto Anche del fatto che esistono anche loro Che stanno invece in periferia Verificheremo sul caso Grizzly Gli elementi di legalità Interviene Mascarin Montalbini si stupisce del mio silenzio Ma va ricordato Dice Mascarin che lo spazio in questione Nasce il primo maggio 2014 Quando Montalbini era ancora il governo della città E nulla disse in proposito Attraverso l'occupazione parziale Di un immobile di proprietà del demagno statale Ancora dal Carlino Di Fano Arrestati due corrieri Avevano 220 grammi di cocaina purissima Poi a centropagine invece Paolo Ciglia Chi è? Una persona che racconta un'incredibile storia Una disavventura capitata al fratello Il quale ha dato in custodia 30.000 euro ad un sacerdote Poi nel momento in cui gliel'hanno richiesti Purtroppo erano spariti È l'incredibile storia Dicevo di un Che racconta questa mattina il Carlino È lo sfogo di Paolo Ciglia Che è un webmaster di 50 anni Trasferitosi ad Orciano Da Frosinone nel 2011 Allora voi vi starete chiedendo Sì ma dici che è sto sacerdote Non c'è niente da fare Il sacerdote è un sacerdote Che aveva conosciuto a Roma nel 2007 Parroco a tutt'oggi In una diocese del Sud Italia Al via E siamo a Fossombrone Le cataratte A Fossombrone Al via le cataratte a Fossombrone Montefeltro Salute inizia l'attività L'opposizione solleva dubbi Oggi Montefeltro Salute SRL comincia la sua attività chirurgica A Fossombrone si parte con le cataratte Secondo indiscrezioni La Montefeltro punterebbe a 12 interventi giornalieri Numero che si ricava dal fatto Che ha chiesto e ottenuto Dalla struttura pubblica La messa a disposizione di due stanze Della vecchia medicina Capace appunto di 12 posti letto Andiamo avanti E la storia di quel dipinto Attribuito a Leonardo Isabella d'Este Nel 2006 abbiamo visionato In quadro a Pesaro E un ex gallerista Racconta l'incontro con Emilia A noi non pareva Un Leonardo A noi chiese di anticipare 30.000 euro Per effettuare degli expertise sul dipinto La signora Emilia Cecchini La vedete in questa fotografia Questa signora bionda Con Magalli Nel salotto dei fatti vostri Sotto parla in tv Parla l'avvocato Castignani Pronti a chiedere i danni Bibi Oggi avrei 40 milioni Oggi avrei dovuto incassare 40 milioni di euro Al momento della firma del contratto di vendita E altri 80 milioni di euro Entro pochi mesi Ma il quadro come ormai sapete È sotto sequestro E quindi Non è ancora là Questo carabiniere ci stressa Sul caso Amianto Ad Apecchio Questo carabiniere ci stressa E spunta l'amico con le conoscenze In chiesta chiusa Dalle intercettazioni Emerge un colloquio colorito La scorsa settimana Il NOE Rende nota L'inchiesta Per fatti avvenuti ad Apecchio Nel 2012 Ovvero alcune ditte Avevano seppellito a terra I tetti dei capannoni In Amianto Invece che smaltirle Ovviamente Perché costava di meno Il comune di Apecchio Insieme all'Asura Accettò un piano di smaltimento Illegale Che prevedeva di interrare Nel parcheggio Davanti alla fabbrica Della Galvanina 630 mila metri cubi Di detriti Tra cui l'Amianto L'ipotesi di reato Ora l'inchiesta Si è chiusa Con 13 persone indagate Per smaltimento illegale Di rifiuti Pericolosi Oltre che Per sindaco E funzionari E abusi d'ufficio I giudici vanno avanti Oggi interrogatori A carico di Cappuccini Dell'Asur Per verificare Se può rientrare In servizio Apriamo il Corriere Adriatico Il pupo infiamma Il carnevale O meglio Ultima fiammata di carnevale Il rogo ha chiuso L'edizione 2015 Ancora una volta In un bagno di folla Cecchini Edizione fantastica Vedete le foto Del pupo Che va In cenere E poi sotto Altre fotografie Il sindaco Che saluta la folla L'entusiasmo Di Cecchini Insomma Tutto un bel servizio Già fissate le date Per il prossimo anno I giganti di cartapesta Sfileranno il 24 Il 31 gennaio E il 7 febbraio Quindi il carnevale Sarà Praticamente un mese Dopo Natale Esattamente Perché 24 di Un mese dopo Zuccherificio Il giorno della bocciatura Oggi il voto finale Dopo il no Unanime In commissione La strategia non lineare Della società Madonna Ponte Mentre Forza Italia Dice sì L'area bloccata Da oltre 10 anni Cocaina Purissima Nascosta Nell'Audi Arrestati due Corrieri della droga Nel vano della luce Di cortesia Rinvenuti Oltre due etti Di polvere L'italiano Alla guida Della vettura Si è arreso Ai carabinieri E ha detto Quello che troverete Non è mio Tamponamento a catena Tra due auto Invece un furgoncino Ferita la donna Al volante Successo davanti All'altezza del bar Va tranquilla Secondo la prima ricostruzione Della polizia municipale Una Fiat Punto Condotta da un giovane fanese Ha tamponato l'auto Che lo precedeva Una Ford Fiesta Con a bordo Una donna E prima di arrestare La sua corsa La Punto è finita Contro un furgoncino In sosta Lungo la strada Apriamo per chiudere La rassegna Il messaggero Che apre con Il Leonardo Il Leonardo era Già venduto La proprietaria E l'avvocato In tv da Magalli Contratto firmato Ora persa anche la caparra Emilia Cecchini Sarà interrogata domani Sono in lutto I 120 milioni Spicciolame Secondo la signora A centro pagina Carnevale Giù il sipario Mentre a destra A sinistra Maltempo Danni per 20 milioni Provincia pessimista Invece sui soldi Tagliolini Dice fondi difficili Speriamo Ci sblocchino Il patto Di stabilità In fondo la pagina Allarme CGL Appalti a rischio Di infiltrazioni mafiose Ricci Simona Ricci Il protocollo Sulla legalità Del 2011 Rimasto quasi tutto Lettera morta E non siamo più Un'isola Felice La pagina di Fano Negozi allo zuccherificio No blindato Alla variante Bocciatura ribadita Dal sindaco E dai vice Ai commercianti L'opposizione Voterà per l'approvazione Forza Italia Accusa Incoerenti Seri e Minardi In provincia L'avevano accolta Poi il comune Il comune di Fano Revoca le cause All'avvocato Nicolò Marcello Sono state revocate Tutte le cause Che gli erano state affidate Dal comune di Fano Va a fuoco invece Un deposito Ieri sera In Via delle Querce Un deposito intorno alle 19.30 Brividi a Sheffin the City Perché? Perché in realtà Mentre sotto andava a fuoco Tutto quanto Sopra Sopra Si doveva svolgere Intorno alle 20 Sheffin the City Con 140 ospiti Che poi hanno dovuto attendere Prima di entrare Perché il pavimento Si era surriscaldato Carabinieri Scusate Corrieri della droga Arrestati dai carabinieri Duetti di coca in auto Il conducente Ha detto Quello che troverete Non è mio Fa ridere insomma Bloccato da mesi Cantiere del centro civico Perini Consigliere del PD Bacchetta La sua stessa giunta Per i ritardi Che si ripercuotono Sulla via del quartiere Con questo chiediamo qui La nostra segna stampa Grazie per averci seguito Oggi è mercoledì delle cenere Quindi appuntamenti Anche con il centro televisivo Vaticano Per tutti i programmi Come sempre sul nostro sito internet Per gli orari e quant'altro Potrete leggerli Nella pagina dedicata Al nostro palinsesto Che viene aggiornata Quotidianamente Stasera invece Alle 20 e 30 C'è il telegiornale Grazie per averci seguito Buona giornata a tutti Grazie 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 a tutti